In attesa che il Ministero emani le linee guida per la riapertura delle scuole a settembre, le regioni hanno deciso di far sentire la propria voce sulla questione, mettendo a punto un documento già trasmesso al Governo. Le proposte sembrano chiare. Nelle aule gli alunni dovranno avere a disposizione non meno di due metri quadri a testa. Ciò significa, per esempio, che un'aula di 5 metri per 6 non potrà ospitare più di 15 alunni, forse di meno, se nel conto dovranno rientrare anche i docenti. La regola più difficile da rispettare, soprattutto nella scuola primaria, riguarda l'obbligo per i docenti di fare lezione stando seduti in cattedra e di non muoversi fra i banchi. In altre parole, l'emergenza Covid potrebbe mettere in crisi molte pratiche didattiche considerate ineliminabili dalla stessa ricerca pedagogica, a partire dal lavoro di gruppo degli alunni fino all'apprendimento cooperativo. Altrettanto complesse e di difficile applicazione appaiono alcune indicazioni relative all'entrata nei locali scolastici. Si parla, infatti, di ingressi scaglionati in modo da evitare un afflusso troppo intenso nei locali scolastici. E non è neppure da escludere che sia gli studenti che il personale docente e ATA debbano produrre quotidianamente una autodichiarazione sulle proprie condizioni di salute. Non è prevista invece la rilevazione della temperatura corporea, mentre sarà obbligatorio per tutti usare le mascherine negli spazi comuni e durante gli intervalli. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha già detto che ci saranno regole da seguire anche per la ricreazione, che andrà fatta in aula allo scopo di evitare assembramenti. La mensa funzionerà in modo completamente diverso rispetto al passato, non sarà consentito il cosiddetto scodellamento delle pietanze nei piatti, ma il cibo sarà servito in monoporzioni, con piatti e posate monouso e di conseguenza con un aumento esponenziale della quantità di plastica da smaltire. Il problema più complesso da risolvere sarà però quello del personale necessario per organizzare il servizio scolastico con le nuove regole. Nel loro documento le Regioni chiedono al Ministero più docenti e più collaboratori scolastici, anche in relazione alla necessità di garantire maggiori controlli e vigilanza nei confronti degli alunni, senza considerare poi l'esigenza di procedere alla pulizia costante e frequente di tutti i locali, con particolare attenzione ai bagni e alle palestre. E fa discutere, e non poco, l'idea che debba essere lo stesso docente a pulire e disinfettare la propria cattedra prima di consegnare la classe al docente successivo. L'altro tema che sta creando non poche perplessità è quello della riorganizzazione degli spazi scolastici. È vero che il decreto rilancio consente ai sindaci di intervenire con i poteri dei commissari straordinari, ma i tempi sono strettissimi ed è molto improbabile che i comuni riescano a portare a termine i lavori necessari prima dell'avvio del nuovo anno scolastico. L'intero piano poi dovrà fare i conti con l'impatto che ci sarà sui trasporti. Per esempio non è ancora stato chiarito come sarà possibile mantenere il distanziamento fra gli studenti sugli scuolabus o sui mezzi pubblici, notoriamente piuttosto affollati. I problemi insomma sono davvero tanti, tutti di difficile soluzione, tanto che appare ormai quasi scontato che almeno per i primi mesi del prossimo anno molti alunni dovranno frequentare ad orario ridotto. Così come appare pressoché certo che la concreta applicazione delle linee guida sarà demandata alle singole scuole e ai singoli comuni. Le modalità di funzionamento del servizio scolastico saranno quindi inevitabilmente diverse da un territorio all'altro. Ovviamente questo è il tema caldo di questi giorni, di questo periodo, noi continueremo ad occuparcene, continuate quindi a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Scriveteci, mandateci le vostre riflessioni, i vostri commenti, le vostre osservazioni, ne daremo conto come sempre. Grazie.